Pensa che è stata bersaglio di discriminazione di genere e sessismo, ma è anche stata una delle più grandi scienziate della storia. Prima donna a vincere il premio Nobel, prima ed unica ad averlo ottenuto in due diverse discipline, ovvero chimica e fisica. Ha rivoluzionato il campo della radioattività, la stessa che, ironia del destino, sarà anche causa della sua morte. Sto parlando ovviamente di Marie Curie e vediamo come ha fatto. Nasce il 7 settembre 1867. Marie Curie, all'anagrafe Maria Skodowska, nasce a Versavia, in Polonia. In questo periodo storico, in questo contesto, la Polonia è occupata dall'impero russo, che impone regime di forti restrizioni, quindi non si può fare niente. Lei è la più giovane di cinque figli. Il padre è insegnante di fisica, che ovviamente gli trasmetterà la passione, e di matematica. La madre invece è una maestra di pianoforte. E appunto per gli insegnamenti del padre, fin dai primi anni di scuola, ma rimostra una non comune e precoce propensione appunto per la matematica e la fisica. Probabilmente gli avrà consigliato dei buoni libri, cosa che voglio fare anch'io con te. Ti voglio consigliare un bellissimo libro. Dovresti proprio leggere Come guadagnare online in maniera professionale. scritto da me Marco Doria. È un libro che non può mancare nella tua libreria. E tu dirai, perché non può mancare? Te lo dico io. Perché è un libro che ti spiega in maniera dettagliata come fare della professione digitale la tua professione, ovvero qui dentro c'è tutto quello che devi sapere per poter lavorare in maniera digitale seriamente. Quindi stiamo parlando di qua c'è la truffa e qua c'è un metodo serio, qua c'è un'esperienza che ti dice realmente come poter fare il mestiere digitale. Ma torniamo a Marie Curie. Quindi il contesto in cui cresce, abbiamo visto che è sotto regime, e non gli offre nessuna possibilità di apprendimento, anche perché non c'è niente di adeguato al talento di una persona. E soprattutto le donne non sono ammesse agli studi superiori. Comunque questo non ferma Marie, che è veramente testarda. E questa testardaggine, questa tigna, la aiuterà chiaramente nel suo ciclo di studi, ma soprattutto nella sua carriera. E lei comunque prosegue a studiare autonomamente, nonostante le restrizioni, nonostante quello che possiamo immaginare era studiare all'epoca. Mentre oggi, con l'informazione libera, tutti ci lamentiamo. Immaginiamoci come doveva essere all'epoca dover, voler studiare da autodidatta. Quindi voleva dire avere poco accesso a libri, doversi ricercare in giro, avere poca scambio di informazioni. Oggi abbiamo tutto, una volta non c'era niente. Eppure, con la testardaggine, qualcuno ce l'ha fatta. Nel 1891, all'età di 24 anni, Marie si trasferisce a Parigi. Questo per continuare, ovviamente, i suoi studi scientifici, ma, come abbiamo visto, ha difficoltà finanziarie e vive veramente in condizioni precarie. Affetta una piccolissima stanza in un edificio. Pensa un po' che avrà solo un letto e un tavolo che usa per studiare, ovvero sarà la sua vita, dormire e studiare. Per mantenersi, ovviamente, cerca di lavorare come istitutrice privata e per governante in famiglie benestanti. Quindi per racimolare soldi per mangiare e pagare l'affitto. Questo, comunque, non è sufficiente. Gli basta a malapena per sopravvivere. Fa la fame, si cuce i vestiti da sé, trascura qualsiasi cosa che non sia lo studio. Anche la salute si trascura completamente. Sono anni veramente duri per questa ragazza, ma lei non molla. Ha veramente una mentalità, un mindset che la fa andare avanti, nonostante tutte queste difficoltà. La cosa che la fa andare avanti è la sua insaziabile fame di apprendimento, grande tenacia e determinazione. Infine si iscrive all'Università di Sorbonne. È il 1894, lei ha 27 anni. Ottiene un diploma di studi superiori in fisica e matematica che, non confondiamoci, non è una laurea tradizionale proprio perché ci sono dei divieti e delle restrizioni proprio alle donne. Nel frattempo si sposa con Pierre Curie, da cui erediterà il cognome, un fisico francese. I due iniziano a lavorare insieme e condividono un grande interesse per quello che è la radioattività. Ancora agli inizi, ancora da scoprire all'epoca. È il 1896, Marie ha 29 anni e inizia lo studio sulle radiazioni. L'elemento scatenante che farà scattare questa molla per le radiazioni è lo studio di Henri Becquerel proprio che ha cominciato a teorizzare quelle che erano le radiazioni emesse dall'uranio. Ed è una scoperta che affascina a tal punto Marie Curie che inizia insieme al marito a condurre ricerche indipendenti sulla misteriosità di questo fenomeno. Nel 1898, all'età di 31 anni, fa una scoperta, ovvero scopre il polonio e il radio. In sostanza cosa fa? Riesce a isolare una sostanza molto radiattiva da minerali contenenti uranio che chiamerà appunto polonio. Questo in onore, chiaramente, della sua terra madre, della sua terra natale. Parallelamente, insieme a suo marito e a Henri Becquerel, studiano diversi minerali contenenti uranio notando che alcune di queste rocce emettono delle radiazioni più intense di quanto si potesse aspettare dal solo uranio. Questo gli suggerisce quindi che ci deve essere ancora un elemento sconosciuto altamente radioattivo presente in quei minerali. Quindi attraverso un paziente lavoro di separazione e purificazione Marie Curie riesce a isolare il nuovo elemento chimico e lo chiamerà radio. Tale scoperta è un'importante pietra miliare nello studio della radioattività e porta a un nuovo campo di ricerca scientifica. Polonio e radio rivoluzionano la comprensione della radioattività e della fisica nucleare. Immaginiamoci chiaramente questo cosa è stato per la nostra scienza di oggi, per la fisica, per la medicina. Cioè tutto quello che conosciamo ruota intorno a questa scoperta. È stata una scoperta fenomenale. Ma non mancarono i commenti sessisti e discriminatori. E arrivarono appunto dal suo collega chimico tedesco Albert Gies, che definisce il lavoro di Marie una scienza cucinata in un crogiolo di una signora. Insomma, un'offesa e un'umiliazione pazzesca. Però è comunque il 1903. Lei ha 36 anni e cosa fa in cambio? Cosa fa in cambio di queste accuse? Vince il Nobel per la fisica. È la prima donna a vincere un Nobel. Insieme ovviamente a Pierre e Henry Becquerel, con cui ha condotto, diciamo, le ricerche sulla radioattività. Purtroppo nel 1906 il marito Pierre muore tragicamente e Marine esce devastata. Trova rifugio soltanto nella scienza. prosegue alacramente e incessantemente il lavoro scientifico. Successivamente le assegnano la cattedra di fisica generale alla Sorbona, che precedentemente era del marito. È la prima donna ad insegnare in questa università. Però viene subito accusata di sfruttare la morte del marito per accaparrarsi onori e riconoscimenti. E ovviamente per l'ennesima volta questa donna sarà vittima di sessismo e di pregiudizi di discriminazione di genere. da parte ovviamente della comunità scientifica e anche dell'opinione pubblica in generale. Maricoli comunque non si ferma non gliene frega niente o meglio gliene fregherà sempre ma comunque andrà sempre avanti perché la sua convinzione la sua motivazione è più forte. Nel 1909 a 42 anni fonda l'Istitut du Radium a Parigi. L'obiettivo principale dell'istituto era condurre ricerche sulla radioattività e promuovere le cure mediche per il cancro. È il 1910 Marie Curie ha 43 anni e decide di candidarsi come membro dell'Accademia delle Scienze e nel gennaio del 1911 richiede ufficialmente l'ammissione ma stranamente anzi non tanto stranamente questa verrà respinta. Accade comunque che questa notizia fece il giro dei quotidiani più importanti ed è la prima volta che la scelta dei membri di tale accademia esce dal perimetro dell'Accademia stessa per diventare oggetto di discussione pubblica è la prima volta che qualcosa è riservato agli scienziati ha cominciato a interessare il pubblico a casa o meglio il popolo perché comunque pare proprio uno scandalo è una cosa buffa che una donna si presenti per tale candidatura e questo diventa ovviamente oggetto di derisione. I membri dell'Accademia si oppongono fermamente alla sua nomina perché non è appropriato che una donna diventi membro dell'organizzazione scientifica più prestigiosa della Francia. Addirittura Édouard Branly anche egli candidato dal 1908 scrive una lettera aperta nel quale sostiene che la presenza di una donna all'Accademia sarebbe stata dannosa per tutta la comunità scientifica dell'organizzazione. Ovviamente Marie non farà mai più domanda e nel 1911 quindi lo stesso anno dell'esclusione dell'Accademia vince il primo Nobel per la chimica in particolare per la scoperta del Polonio e per il radio e per la sua indagine pionieristica ovviamente sulla natura delle radiazioni quindi lei si vendica vincendo Nobel ha detto niente. Nello stesso anno però nasce una relazione sentimentale con un altro scienziato con Paul Langevin iniziata dopo la morte del marito che è diventato ovviamente già di dominio pubblico però fu uno scandalo perché Paul è sposato Marie venne investita da uno shitstorm mediatico di nuovo feroce e venne sottoposta a violente critiche e giudizi negativi i media e l'opinione pubblica la descriverono come scandalosa e moralmente ambigua ignorando chiaramente tutti i successi scientifici che lei aveva collezionato nel tempo e comunque il 1914 la prima guerra mondiale sconvolge l'Europa Marie Curie organizza e gestisce delle unità mobili di radiologia per aiutare i soldati feriti al fronte nel 1919 finita finalmente la grande guerra lei ha 52 anni e si attiva nella commissione internazionale per la cooperazione intellettuale della Lega delle Nazioni questo per migliorare le condizioni di lavoro degli scienziati e nel 1921 il suo Istitut di Radium di Parigi dedicato proprio alla radioattività al trattamento sul cancro venne riconosciuto di utilità pubblica finalmente un onore importante per il suo lavoro oltre ai Nobel ovviamente e nello stesso anno comincia a viaggiare negli Stati Uniti per raccogliere fondi monetari necessari a continuare le sue ricerche sul radio in America stranamente a differenza dell'Europa viene accolta con benevolenza e grandissima stima si sa che in America le cose funzionano diversamente e nel 1932 all'età di 65 anni apre Istituto Curie a Versavia in Polonia ma nonostante l'indipendenza dalla Russia che è arrivata nel 18 è un periodo un po' particolare c'è una grande crisi economica quindi la grande depressione che ha investito tutto il mondo e ci sono tensioni interne proprio perché si sta preparando l'ascesa del nazismo il 4 luglio 1934 all'età di 67 anni Marie Curie muore è ammalata a causa di una grave e non protetta esposizione alla radioattività lei da sempre operava in laboratori non sicuri e all'epoca non si conoscevano neanche i rischi della radioattività e per questo lei non ha mai preso precauzioni Marie Curie è stata una scienziata unica nella storia la sua eredità è eterna le sue scoperte sulla radioattività hanno gettato le basi per lo sviluppo della fisica nucleare e della radioterapia la sua passione la sua disciplina la perspicacia la tenacia e la determinazione in campo scientifico palesate fin da bambina sono stati accompagnati da una grande forza e un grande coraggio con cui ha lottato per superare ovviamente le barriere di genere e le difficoltà economiche legate a una scarsa possibilità che c'era all'epoca chiaramente di accesso alle informazioni che cosa abbiamo imparato da questo grande personaggio uno scienziato che ha cambiato la storia abbiamo imparato che nonostante le condizioni difficili è nata in un regime dove non gli era consentito studiare è nata con poche possibilità economiche eppure è riuscita a prendere due premi Nobel nonostante il sessismo e le discriminazioni di genere che ha dovuto subire cioè rendiamoci conto del livello di difficoltà e come ha superato tutto questo l'ha superato con un grande impegno una grande dedizione ma soprattutto con una grande passione e questo ci insegna che la passione ci fa superare chiaramente gli ostacoli che possono sembrare impossibili da superare anzi ce li fa distruggere se questo video ti è piaciuto metti like iscriviti al canale e attendi il prossimo